gentili telespettatori buona giornata anche la politica se ne va in vacanza alla facciazza nostra stato di emergenza e il parlamento chiude ma alla faccia dello stato di emergenza è proprio un'emergenza incredibile chiuso il parlamento 15 giorni tutti al mare tutti al mare ma dove vanno questi grandi lavoratori che sono i nostri leggendari politici dove trascorrono l'estate dove vanno a spendere la pecunia che hanno sudato tutto l'anno non hanno bisogno neanche di mettere da parte per andare in vacanza basta prendere l'ultimo stipendio 13 mila euro dice vabbè questo mese risparmierò meno perché devo andare in vacanza mannaggia e così qualche giorno di riposo non si nega neanche al governo dei migliori è il governo dei migliori immaginate tutti dei supereroi seduti al tavolo no c'è wonder woman c'è l'uomo di pietra c'è superman batman tutti supereroi il governo dei migliori saranno reperibili questi supereroi migliori è questo governo dei migliori avranno il cellulare lo squillofono squillerà lo squillofono come diceva ezio greggio vi ricordate al drive in lo squillofono beh la pausa dopo che mario draghi diceva non si può andare in vacanza vanno tutti in vacanza ma anche i ministri saranno in vacanza o per loro no chi lo sa vedremo adesso vediamo se realmente anche i ministri hanno avuto la loro vacanza ma sembra proprio di sì perché anche draghi sembrerebbe diretto in villeggiatura beh c'è ancora molto da fare cdm eccetera eccetera però voi sapete che qualche giorno di riposo per draghi nella sua casa in umbria a città della pieve con la moglie serenella portando nella sua 24 ore i dossier più importanti di settembre io sono certo che una persona come draghi il riposo non è mettersi davanti la televisione a guardare maria de filippi e costanzo consigli per gli acquisti no credo che draghi è di quelle persone che lì è sul divano guardandosi facendo la sua pianificazione almeno io credo che sia proprio così non me lo vedo lì sul divano con la vestagliona a guardare consigli per gli acquisti bene lui a città della pieve con la moglie serenella è probabile che il presidente si fermi nel borgo umbro fino a dopo ferragosto per tornare attivo a palazzo subito dopo è infatti in agenda per il 26 agosto un consiglio dei ministri che dovrebbe affrontare il decreto legge infrastrutture e quello relativo al fisco senza contare che la ripresa delle scuole è in cima ai pensieri di draghi e non può essere trascurata come del resto l'utilizzo del green pass per le aziende su cui si sta lavorando senza sosta senza sosta se questi mi vanno in vacanza poi il presidente della repubblica sergio mattarella va ad alghero in sardegna l'avrà fatto il green pass ospitato nella villa dell'aeronautica militare nel parco di porto conte 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 gli hanno fatto anche un porto giuseppe e nella prima domenica di relaz di relaz di relax il capo dello stato è stato accolto da un caloroso applauso dei residenti e turisti al suo ingresso nella cattedrale di santa maria madre di dio dopo una breve passeggiata nel centro storico il capo dello stato è arrivato in cattedrale dove lo attendeva una piccola folla grande presidente grande non ci ha fatto votare il presidente perché c'è covidi tutto per fermare il centrodestra grande presidente ma forse quelli di sinistra possono dire grande presidente hai fermato salvini premier cioè hai chiamato draghi perché c'era covidi non non ci ha fatto votare grande presidente ha gridato qualcuno al suo passaggio forse voleva dire grande d'età bu e poi un lungo coloroso applauso 92 minuti di applausi come per la corazzata potionchi accompagnato fino all'ingresso in chiesa dall'applauso dove ha assistito alla messa domenicale presieduta dal vescovo di alghero e bosa mauro maria morfino e se draghi ha scelto il suo piccolo rifugio mattarella la sardegna il ministro degli esteri gigino di maio il grande si gherirà con la fidanzata virginia sabba in puglia agosto nella capitale invece per i trasporti enrico giovannini che continuerà a lavorare con qualche capatina al mare della famiglia in vacanza sul litorale romano sarà tipo ostia fregene per lui in agenda un appuntamento importante già il 14 di agosto il terzo anniversario poi giovannini dovrebbe esserci anche marta cartabia vediamo un po anche daniele franco ministro dell'economia non si muoverà da roma questa settimana per il momento non ha organizzato nessun viaggio fuori dalla capitale ferie ristrette per patrizio bianchi voi direte ma chi è il ministro dell'istruzione passerà qualche giorno nella sua casa di ferrara per poi fare ritorno al ministero dell'istruzione permettere appunto il piano scuola mara garfagna ministra del sud porterà invece la piccola vittoria in montagna e poi qualche giorno al mare mentre sempre in italia elena bonetti in italia si prenderà un po di riposo e starà tra le montagne del nord invece giorgetti con località top secret non bisogna sapere dove va giorgetti in linea con la riservatezza che contraddistingue il ministro leghista anche la cartabia optato per una vacanza in famiglia in val d'aosta mentre massimiliano garavaglia ha scelto l'entroterra ligure la pausa del parlamento invece durerà un mese un mese consecutivo la presidente del senato elisabetta alberti casellati tornerà a cortina dove si reca fin dagli anni 70 mentre roberto fico ha deciso per un periodo di vacanza da trascorrere al mare anche i leader politici non si allontaneranno dalla penisola salvini sarà qualche giorno in calabria con la fridanzata verdini e poi qualche giorno in montagna con i figli il leader di forza italia silvio berlusconi e già da qualche settimana villa la certosa in costa smeralda insieme alla sua famiglia beppe grillo passerà le sue ferie come ogni anno in sardegna vacanze diverse tra lavoro e affetti invece per enrico letta che impegnato nella campagna elettorale per le supplettive a siena e arezzo si dividerà tra la sua casa di pisa e le tappe del tour non si è parlato di giorgia meloni secondo me giorgia meloni sarà lì nella zona di ostia io credo credo di sì comunque grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo a presto per un altro video